Ciao, siamo al Parco degli Acquedotti e siamo venuti qui in sopralluogo con la Commissione Sport per valutare la realizzazione di un progetto. Si chiama Progetto Parchi ed è promosso dalla FIDA, la Federazione Nazionale di Atletica Leggera, che già quattro anni fa ha iniziato a realizzare in alcuni parchi cittadini dei percorsi certificati, misurati dalla federazione, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini, attraverso la pratica sportiva, a vivere di più il verde pubblico. Abbiamo quindi effettuato una passeggiata lungo quello che è uno dei percorsi ipotizzati. I prossimi passi saranno quello di convocare una conferenza dei servizi con tutti i soggetti competenti per valutare il luogo ideale dove realizzare questi mille metri certificati dalla FIDAL e rispettare tutti i vincoli ai quali il parco è sottoposto. Quindi i prossimi passi saranno appunto quelli di sederci a un tavolo e valutare come riuscire a portare finalmente anche a Roma questo bellissimo progetto che sta avendo grande successo in altre parti d'Italia. Grazie per la visione!